A Ponte Decimo ogni anno la Croce Verde, in collaborazione con l'Associazione La Via del Sale, organizza un concorso di presepi presso la Società Cattolica. Il concorso è aperto a tutti e quest'anno c'è anche una sezione specifica per le scuole, con circa 35 presepi esposti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS